Oltre 50 espositori, più di 20 laboratori creativi con visite guidate e giochi per i bambini. La partecipazione di 37 associazioni impegnate nel sociale e nella cura della persona. Questi sono i numeri che confermano il successo dell'edizione 2022 della Fiera Bioest che si è svolta l'11 e il 12 giugno scorso al Parco di San Giovanni a Trieste. Grande affluenza di pubblico attratto dalla varietà dell'offerta culturale, gastronomica e del prodotto artigianale. Tutto all'insegna delle buone pratiche ecosolidali. Grazie.